Oggi la Madre Chiesa, per volere di Papa Francesco, celebra la Domenica della Parola e non può avere migliori testi per focalizzare la bellezza e il mistero della parola. Vedete, noi purtroppo quando intendiamo la parola di Dio pensiamo alla messa in pratica della parola di Dio, ma non è questo il senso della parola. Oppure quando pensiamo alla parola di Dio la pensiamo come l'ideale che ci viene proposto, ma poi nella realtà non viene mai raggiunto, ma non è pure questo. A volte pensiamo alla parola di Dio come ciò che ci dà senso alla nostra storia, alla nostra vita, e questo è anche vero, ma non può esaurirsi al senso della storia. Allora qual è il mistero della parola? È un po' Cristo nel Vangelo di Luca ci dà proprio la giusta chiave di lettura. La parola si compie, cioè celebriamo la parola di Dio perché la parola che ascoltiamo, che accogliamo, si compie nella nostra vita, diventa realtà, il verbo si fa carne. Questa è la novità della parola di Dio. Non è una parola astratta, non è una parola lontano, non è un moralismo, non è qualcosa che dà solo significato sapienza, è la realtà. Fare esperienza della realtà dell'evento della parola di Dio. Questo significa celebrare la domenica della parola. Buona missio.